Cambia l'estate Covid tra vacanze brevi e chi resta in città. I comuni si attrezzano per offrire intrattenimenti che magari non vadano a pesare sulle casse delle amministrazioni. È così che magari si ripropongono iniziative che hanno avuto successo rivedendoli in chiave coronavirus, come ha fatto Arzignano con i mercoledì by night che allieteranno appunto i mercoledì estivi e fino a settembre, trasformando il centro storico in una grande isola pedonale. La formula però cambia via il palco centrale con i musicisti che suonano durante lo struscio cittadino con i negozi aperti, ma la musica non verrà meno. Sono i locali che organizzano dei concerti con musica di accompagnamento e posti seduti a cui il comune dà il patrocinio e quindi poi li promuove sulla sua pagina. Diventa un mercoledì by night che non pesa sulle comunità a livello di budget e diventa mercoledì by night sempre con le botteghe aperte, sempre nel rispetto delle norme covid, con le distanze, con le mascherine. Il covid rimane tra noi certo, ma attenzioni e precauzioni consentono di vivere un'estate all'insegna della socialità. È un'estate comunque da vivere ritornando piano piano a quella socialità che ci è stata tolta durante questi mesi di lockdown e che torna a far vivere anche Arzignano.